Le migliori immagini di gara 1 dell'Euro Formula Open 2019 dal Lungar Ring con un po' di confusione che porta fuori dai giochi subito i piloti di casa a Motopark con anche le colorazioni Red Bull ad uscire dalla competizione la leadership subito nelle mani di Marino Sato che per la seconda gara consecutiva beffa il Polman Ieri Danner, oggi Matsushita, piloti giapponesi dunque davanti a tutti, sfila il gruppo con un contatto nelle retrovie tra Festante e Das, Festante che era anche partito in anticipo sulla formazione della griglia di partenza, prova in tutti i modi il pilota italiano ad avere la meglio sullo statunitense, è passato a difendere i colori di casa a Motopark, riesce ad avere poi la meglio nel finale Qui invece l'uscita di Javier Gonzalez che perde la posizione Silvino Sluntqvist, leader della classe rookie, deve rientrare i box per cambiare all'anteriore, si ritirerà anche Julian Assis che costringerà il ritorno della vettura di sicurezza in pista, gara estesa di due tornate Alla ripartenza e il sorpasso di Moson nei confronti di Billy Monger, riesce così il neozelandese a dar più e nare almeno un punto ma in classifico ormai scappa via Marino Sato che vince la quarta gara consecutiva più 81 punti nei confronti di Lucas Danner che chiude al terzo posto e l'esultanza del team Motopark Alla ripartenza del team Motopark